Sio Stok, ciao a tutti, voglio riportare una notizia che non va molto di moda sui media italiani per non dire che è stata praticamente snobbata, censurata e voglio partire da questo articolo ungherese votoitashok.u, questa testata online di destra che parla di come a Montpellier in Francia diversi mirati abbiano sparato con armi da fuoco automatiche il tutto in un'area conosciuta ormai come una vera e propria no go zone francese ieri primo novembre di domenica quindi alle ore 13 e 15 circa in pieno giorno ai piedi della torre di Assas nel quartiere di Mosson-la-Payad individui mascherati, armati e con dei guanti sono stati coinvolti in brutali sparatorie come vedrete nei video che hanno portato perfino ad inseguimenti in automobile la polizia si è precipitata sul posto, era stata denunciata la presenza di soli 4 uomini armati mentre in realtà hanno partecipato allo scontro in 12 la fonte è FD Soche, vi faccio vedere l'articolo francese che riprende dei tweet video di France News 24